15 nuove telecamere saranno installate nei principali centri di aggregazione della città di Cerignola. Il Comune implementerà i sistemi di videosorveglianza con i fondi ottenuti dal Ministero dell'Interno pari a 250.000 euro. Vogliamo rendere più sicuri i parchi, i cittadini e le zone più frequentate, così l'assessore della sicurezza Teresa Cicolella. Proseguiremo con una programmazione mirata in ambito di videosorveglianza. Le nuove telecamere, ha spiegato il sindaco Bonito, si aggiungono alle 16 già installate ad aprile dello scorso anno in tutti i punti di accesso della città di Cerignola. Attrezzature ad alta tecnologia in grado di controllare in tempo reale le targhe e le situazioni di eventuale pericolo. Con gli ultimi interventi saranno 83 gli impianti di videosorveglianza attivi in città. Di certo non serviranno da soli a combattere l'illegalità ma rappresentano un'argine molto robusta a proliferare di attività criminali, conclude il primo cittadino.